Non avete mai visto nulla del genere? Quante volte avete sentito questa frase qui su YouTube? Tantissime, vero? Ma questa volta, credetemi, non avete mai visto nulla del genere. E vi dirò di più, la prima volta che io ho visto questo coso tra le mie mani, ci sono rimasto. Ma prima di svelarti di cosa si tratta, ti invito ad entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals, è linkato qui sotto in iscritto del video perché troverai offerte e coupon su questo prodotto e tantissimi altri. Ogni giorno scrivo centinaia di offerte manualmente, per voi le cerco io e ve le porto sul canale senza usare botte esterni. E vi porto anche gift card, legalini, meme, segnalazioni di nuovi video e tantissimo altro. Quindi entrate subito nel mio canale Telegram ufficiale, siete già in oltre 30.000. Grazie a tutti. Un mini PC? Non esattamente. Questa è una tastiera meccanica QWERTY con layout americano, comunque bastano dei semplici adesivi per rimediare a questo piccolo difetto, con un grosso, un grande, particolare, questo display. Si tratta di un largo particolare, un display da 12.6 pollici che è fantastico. E touch, ha una bella definizione, ha una grande luminosità, potete farci un sacco di robe. È plug and play, quindi vi basterà connettere il cavo USB-C al vostro computer e questa tastiera funzionerà perfettamente senza installare nessun altro driver. È compatibile con PC Windows e Mac OS. Ok, ma cosa è possibile farci? Beh, questo dipende da voi ragazzi, in quanto si tratta di un vero e proprio secondo monitor con in più la funzionalità touch. In questo momento io ho aperte due programmi, Word ed Excel, non proprio loro, io uso OpenOffice, però è la stessa cosa ed è molto comodo poter switchare da uno all'altro su questo display. Oppure io pubblico ogni giorno, scrivo a mano centinaia di offerte sul mio canale Telegram, un ufficiale TechBestDeals e in questo modo posso separare comodamente le aree di lavoro. Montaggi video su Adobe Premiere con la timeline in basso, il video in alto, editing fotografico, io ad esempio uso Illumina. O ancora potrebbe essere utilizzato per esempio nel gaming, con la parte inferiore, questo display dedicato a tutti i programmi di gestione della live, dello streaming, come OBS eccetera eccetera, e la parte, il secondo display ovviamente per giocare. Per quanto riguarda invece la tastiera in sé, meccanica e di ottima qualità, la digitazione è molto veloce, un bel rumore, un bel feedback, nulla da dire sotto questo aspetto, se no, come ho già detto, che è un layout americano e non italiano. Insomma, le potenzialità sono infinite e dipendono dal vostro tipo di utilizzo. È sicuramente innegabile che questo è un prodotto pensato per la produttività. Se siete multitasking, se utilizzate tanti programmi contemporaneamente come faccio io nel mio lavoro, questa è una manna dal cielo. Se invece utilizzate un solo programma alla volta, usate il PC solo per aprire una schermata di Word alla volta, questo display potrebbe avere, questo coso, non so come definirlo, potrebbe avere meno senso, anche perché ha il suo prezzo. Infatti ve l'ho già proposta sul mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals pochi giorni fa per una cifra vicina ai 400€. Il suo prezzo comunque oscilla tra i 300 e i 400€ in base al periodo. È una cifra abbastanza alta, è disponibile anche una seconda versione con la tastiera a membrana, credo, o comunque non meccanica, è super giù, siamo sulla stessa cifra. Quindi un prodotto non per tutti ma pensato per usi specifici che vi volevo comunque portare con un video flash super veloce qui sul canale perché l'ho trovato davvero interessante, futuristico e secondo me questo ovviamente è un primo modello, ma se questa tecnologia verrà sviluppata e portata avanti negli anni potrebbe diventare molto molto interessante. C'è già un portatile Asus Zenbook che vi ho recensito un annetto fa cerca che utilizza proprio la tastiera con il display integrato. Trovate il suo video in una scheda qui in alto a destra. E questo prodotto segue un po' quella filosofia lanciata da Asus un anno fa. Tralasciando il layout della tastiera e il prezzo non ci sono altri difetti importanti se non l'inclinazione del display stesso. Avrei gradito magari il display inclinabile autonomamente, ma lo sapete anche voi non si può avere tutto dalla vita specialmente con questi primi modelli un po' sperimentali però l'idea è molto interessante. Se volete acquistarlo entrate nel mio canale Telegram TechBestDance linkato qui sotto in descrizione di video cercatela e la troverete subito in offerta o con un bel coupon. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questo prodottino. Lo trovate interessante? Totalmente inutile? Parliamo insieme qui sotto nei commenti. E se questo video è stato di vostro interesse lasciate un bel like per supportarmi e iscrivetevi a questo canale. Siamo già oltre 90.300. Grazie a tutti. Io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre come vogliate, sempre qui su AdDX2Tech. Alla prossima. Ciao ragazzi! Grazie a tutti.